Sono Elisa, ho 27 anni e vivo a Belluno. Ho frequentato la terza edizione dell'Università del Volontariato nel 2016, anno in cui ero studentessa al campus di Treviso dell'Università Ca' Foscari Venezia e studiavo lingua cinese. Sicuramente è stato un percorso che ha avuto un forte impatto nel mio percorso professionale, che mi ha permesso di acquisire delle competenze parallele a quelle che stavo acquisendo con il mio percorso di laurea. In particolare ho sviluppato un forte interesse per le tematiche sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda l'educazione allo sviluppo sostenibile, tema che ho poi sviluppato nella mia tesina dell'Università del Volontariato e che ho poi continuato a portare avanti anche nella mia tesi di laurea magistrale. È stato un percorso che mi ha appassionata e che ho voluto portare avanti. Ho voluto portare avanti questo mio interesse per il terzo settore, tanto da decidere di intraprendere il percorso di servizio civile proprio con il CSV di Treviso nell'ambito dell'Università del Volontariato e che ho portato avanti fino ad oggi, anno in cui sono diventata ricercatrice proprio sui temi dell'innovazione sociale con l'Università Ca' Foscari di Venezia e devo dire che senza questo percorso non sarei arrivata dove sono oggi.